no vabbè ho forse problemi allo giusto no è giuseppe giù giù dove sei vede il suo nome lì oh mio dio ma vero è tanto anche io che non lo vedevo però aiuto e vabbè giuseppe giuseppe arrivo 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 ma veramente di sapere se ti avevo detto che ero lì ero lì a prendere la pietra lì adesso vieni con me avete visto ragazzi la serie sarà pure difficile per me perché lui si perde sempre aspetta che non faccio una scala c'è un enderman allora vado a prendere non è casa tua resta lì che io vado a prendere la per rompere questa pietra quanto ci starò è tanto tempo credo abbiamo bisogno dei letti giù ma qui pecora io non ne vedo mai ah pecora pecora si vieni qui si quanta lana e una una di lana ma me non penso che ho tanto bisogno cosa non penso che ho bisogno quante quanti in te qua ci sono io passo nei bocchimini nascoli sì ma dobbiamo dormire perché se no come facciamo io non voglio stare un'altra un'altra notte ecco appunto abbiamo passato le pene dell'inferno porca miseria allora devo fare le eccole io mi metto a casa allora qui magari chiudo un po però la lasciamo aperta io tanto ce l'ho una casa ed è anche molto allora rilassimo aperta così che anche io posso uscire no non è vero vabbè credo tu puoi uscire io da lì e sì che posso uscire ecco allora rientri o spero di vederti mentre lo fai va bene continuo un po' a prendere del carbone oggi dobbiamo costruire una casa e questo è il nostro il nostro il nostro attacco che cacchio un che cacchio prendiamo un atto non voglio un atto no e voi della legna che ho preso no tieni i 12 di no ah sì sì ah la legna no sono troppo incasinato sono veramente incasinato eeeeh anche io voglio torcia eh sì sì tieni tieni te ne do un po' e ne servono poche ok di sotto li hai? sì ok va bene allora organizziamoci un po' eeeeh dobbiamo fare la casa ci serve una cesta eh stima dove la facciamo questa casa? oh no ah 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 torna dentro ma dove la facciamo questa casa? non lo so mettiti sopra la ecco si così ti vedo bene quindi oh la picchino aia mi ha picchiato ai 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 provati non morisci eh se muoio che succede a casa mia giuseppe ma che è successo sono gigante quello zombie insiste è morto giù rimani dentro io vado è pronto giù dobbiamo cercare le pecore vabbè dai sei piccolo fai scappare subito dai tu puoi scappare subitissimo non ti prenderà mai nessuno oh no c'è uno scheletro comunque ho appena scoperto che siamo in un'isola deserta quindi per trovare e portare l'end sicuramente dobbiamo attraversare tutto il mare appunto e qui c'è una drotta aia 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 credo di morire no lo so che tu mi hai cacchio ah ma qui era morta una pecora adesso ce l'ho io ne ho due pezzi ah io ne ho zero come zero ah ecco ti ho visto ah dove sei giù ecco ecco le pregge sicuramente non arriveranno mai giù 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 allora abbiamo un problema abbiamo bisogno di sei pezzi di lana io ne ho solo due due eh ma chi se ne frega per ora il colore eh no no lana nera eh va bene no ma quella non penso che tu ho giù muoio ah c'è una strega qualcosa mi sta ammazzando c'è una strega disgraziato cosa faccio ora eh non so ammazzalo tanto a te non ti può prendere sei sicuro alle pozioni questa ah cacchio ah aiuta ah mi ho velenato aiuta aiuta muoio giuseppe no 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 muoio il veleno no non ti uccide il veleno non ti uccide aiuta muoio mangiati una mela d'oro creeper mangiati una mela d'oro che non muoio vai nooo cacchio me l'adoro in azione ah tam tam scappa quanti creeper sono inseguito da tre creeper mi ha dato lentezza la strega mi ha dato lentezza la strega ai ai sei morto? no no fatti guardare al microscopio resta fermo dove sei? il microscopio è male ecco va bene e iniziamo a farci la casa vai vai giù ecco vai giù 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 andiamo lo scheletro c'è giù vabbè torna un attimo dentro casa dai che possiamo fare un letto giù sei sicuro? sì 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 oltre di lana speriamo ai 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 questo scheletro mi fa molto male allora eh prima però faccio un'altra cosa cosa? è una cosa però utile una mucca no una porta una porta vabbè per me non c'è bisogno vivere così è molto utile vabbè tu puoi entrare da lì comunque no no entra da lì vai vedi puoi entrare da lì e tu vai entro direttamente nella mia casa beh eh ok allora sono leggermente incasinato perché? facciamo così un letto ok no non l'ho fatto è un amico piccolino questa casa no no questa amica sarà casa nostra eh prova a dormirci mettiti sopra le ahah è enorme per te eh ma non posso dormire come ma ah sì vero giorno dai vai sul letto voglio vederti ferma sembra che sei su un altro pianeta per me è gigante qua io ci posso stare 8 anni o ci posso fare una casa ok mi imposta la generazione ok adesso ci facciamo un po' di bastoncini per per prima ci facciamo un po' di utensili lì giù ok posso fare una cosa? piipipipipipipipipipipipipipipipipi ee vabbabbè ok oh oh giù ti do la spada in pietra vieni si che bello che bello che bello che bello faccio una cesta così sa dove mettere le cose questa te la dotterai nasce in pietre prenditela quale ci metto la mia giuseppe prenditela questa non ti organizzerai sul letto faccio i picconi e poi basta giù dobbiamo fare la casa ci metto un po le cavolate posso mettercelo anche io che ho trovato una cesta pubblica io ti ricordo che qui ancora le cose per farti tornare al normale appena completeranno minecraft è una promessa è una promessa giuseppe è una promessa iniziamo a farci casa continua a prendere legna giù ok adesso con questa ascia in pietra sarò molto più veloce ah si è in pietra beh io me la voglio fare sul mare giù ce la facciamo nel mare ok facciamola nel mare ecco sai ma quanto ti stanchi eh velocemente giù ma quanto ti stai stancando mi sta da piccola e brutta beh ma io ancora non ho capito come è fatto a diventare piccolo ma non ho capito neanche io puoi spiegare un po meglio quello che ti ricordi o quello che hai visto mi ricordo che ero nella foresta eh e ero in una foresta nel bosco si ero in un bosco che ero andato a prendere delle cose ed eri normale però lì si ma pure la tua voce è cambiata io lo so perché sono più piccolo quindi mi è venuta la voce da piccolo non è che ti è venuta la voce da piccolo è che se è più piccolo io la sento perché è piccolo come se sei piccolo ma tu credo la senti come se fossi normale dove sei? sono nel mare giuseppe quale mare? vieni qui vai vuoi tutto mare ecco ti dove sei? ti vedo resta fermo lì resta fermo lì no eccolo guardalo arrivo eh giù comunque arrivo 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 hai preso oltre legna si quanto? del 12 ok ok ma l'hai craftata? si ok mi vado a prendere altre si si vado a prendere altre va bene se prendo di altro colore? eh no fa niente? no ok allora vado a prendere legno dappertutto no ho detto gli altri colori no ah ma allora continuo a prendere questa allora facciamo magari di tre blocchi questa no non costano fare niente qui dentro ma aspetta che tanto mi viene dove sto andando beh quindi Giuseppe Giuseppe ma ti cacci sempre nei casini eh esci dall'acqua vieni che ti aiuto ti aiuto ti aiuto ti aiuto ti aiuto ti aiuto vai ti colpisco vai ti ho salvato eh cacchio giù ma stai più attento eh cavoletto ho preso tantissima legna bravo ma sei felice di essere il protagonista di questa serie aspetta mi devo fare una pala una pala sì perché perché per rompere la sabbia più velocemente che devo fare una cosa i vetri eh fai il vetro eh ma mi devo prendere una pala ok e vai un po' a prendere della pietra Giuseppe ma ci sto a dieci anni per prendermi una eh dai Giuseppe provaci ci provo che io acquisto finendo a casa buco casa nostra no sì no inbrangisco questo posto ok non lo fare inizia a portare la crafting table eh sì ok adesso la prendo ah dai no aiuto sto negando ah non ha negato ah cacchio ma quanto siamo porca miseria ok allora sono un pochino ma proprio giù 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 sa leggermente sì sì ma pochissimo pochissimo giù è altra lena pure eh no così non riesco a giocare così non riesco a giocare se mi blocco sempre cacchio 28 di pietra ti abbasta cosa 28 di pietra va bene 28 di pietra sì per una fornace Giuseppe guarda un po' guarda un po' eh Giuseppe ammira la nostra casa completa ho della sabbia e della pietra tieni sì sì da me bravo Giuseppe sei stato schifo da nessuna parte torni nella vecchia casa e vai a prendere la crafting table sì ok so bene pure letto sì ma certo Giuseppe che domanda la svuoto no la cesta la puoi anche lasciare lì chi se ne frega Giuseppe che cavolo la crafting table giuseppe mi ho com- e la cesta mamma mia Giuseppe ma che cacchio sta bioggia ma che cavolo non posso farci farle no la mi serve dai porta la crafting table aspetta 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 ma dove sei? ah ogni tanto mi scordo che sei mini e vedo il tuo nome non vedo te ok sono nella casa ah io sono dietro di te e qui del centro? no qui qui? qui sì perfetto e la crafting table l'hai portata? sì mettila qui bravo ok adesso faccio una formace e dobbiamo cucinare la sabbia la porta vado a prendere eh sì vai a prendere la porta anche se la potrei fare però eh adesso cuciniamo la sabbia lei lo sa lei lo sa nel lino se abbiamo giorno va bene va bene aspetta nella cesta ci sono più porte prendi le porte anche dentro la cesta cosa? metti prendi le tutte le porte tutte le porte che ho messo dentro la cesta non si vado a prendere la cesta eccole qui io mi vado a fare sempre il mio buco sì ma vi vorrei dentro casa mia sì ma io mi vado a fare sempre il mio buco da dove entrare ok va bene ok va bene magari ci metti una botola come porta che le dici con la botola? non so sei un ottimo fermo dai non ti consiglio neanche consiglio proprio di entrare all'uomo togli questa schifozza oh ma che cacchio hai fatto? stupido giuseppe ma tu hai poca aria perché hai poca aria mi hai quanto a me un buco da dove entrare ma tu le porte riesci ad aprirle riesci a me devo stare tutta faccia eh ma sei urca giù eh allora vediamo se la sabbia è pronta si si è tutta pronta e qui cosa c'è niente che bello aspetta colore il letto ok cosa vuol fare? colore il letto ok e così ce la rifacciamo e che colore lo vuoi tu? rosso o giallo? ma dove la legna che avevo? che colore lo vuoi? che colore lo vuoi? rosso o giallo? e rosso rosso aperto se c'era blu me lo prendevo blu eh non l'ho visto c'era blu va bene e la mia cesta è qua anzi no qui no la metto qua e in un'altra cesta non ce l'hai? eh no vado a prenderla qua va bene però le altre cose buttano giù ma sei urca eh si sei urca più amico sei diventato forte hai fatto palestra in questi cinque secondi eh? fai palestra aprendo le porte fai palestra aprendo le porte ok vai che potenza giuseppe dai ripiazza la porta dai termine giuseppe non te ne andare non te ne andare ciao 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 ciao